A Torraca è andata deserta la seduta convocata dal sindaco Ferdinando Ciamba per l'approvazione degli atti propedeutici al bilancio. Alla seduta, che doveva tenersi giovedì pomeriggio, come era facile prevedere, non si sono presentati i cinque dissidenti della maggioranza, ma anche un altro componente dell'amministrazione, il consigliere Affredo Santoro. In aula, con il primo cittadino, c'erano tre dei quattro della minoranza e soltanto uno della maggioranza, il consigliere Giuseppe Liano. Questo è lo scenario che potrebbe presentarsi in aula nel caso in cui il sindaco porti in consiglio il bilancio. Questa mattina, in comune, è arrivata la proposta risolutrice del gruppo dei dissidenti. Con una lettera indirizzata a Ciamba, si è impegnato ad approvare il bilancio se il sindaco, nella stessa seduta di consiglio, rassegnerà le dimissioni. In questo modo, la maggioranza, che ha sfiduciato il primo cittadino, va a mettere in nero su bianco quanto ha dichiarato pubblicamente il sindaco. Nell'incontro di domenica scorsa, infatti, si è detto disposto a lasciare l'incarico dopo che il consiglio avrà approvato l'importante documento finanziario. Ora si attende la risposta del primo cittadino. Intanto, ad Ascea, fermano le manovre politiche per far decadere l'amministrazione del sindaco Mario Rizzo. Anche qui, il primo cittadino è rimasto senza una maggioranza per l'approvazione del bilancio.